E' buona. Lorenzo, com'è buona? C'è una forza, guarda. Ma se ti metti la cucina sembresti in bosa. Ma perché mi stai a prendere? Allora, non ti stai a prendere. Allora, aspetta. Lorenzo? Prendi solo lui. Comodissimo, comodissimo. C'è un po' ciappone. Vieni. Vieni la sangue. Vieni la sangue. Vieni la sangue. Vieni la sangue. E' buona. Lorenzo, com'è buona? E' buona? E' buona? E' buona? E' buona. Mi hai dato appunti. Buona. Non ci stai niente, non posso fare. Ho questo pezzo questo grano. Si. E' troppo delicato, papà, di stanno facendo. Eccolo. Eccolo.